Musica Con Armando Ghiglione, Presidente della Vischese, oggi siamo qua per parlare di una importantissima collaborazione ed è importante la parola collaborazione con il Real Soccer, squadra di Pavone. Sì, direi che è fondamentale quel termine perché effettivamente si tratta di una vera e propria collaborazione. Le due società rimangono a sé stanti ovviamente e la finalità di questa collaborazione sta nel fatto che una società di puro settore giovanile ha necessità di avere uno sbocco in Lega Nazionale di Lettanti e nello stesso identico modo noi in Lega Nazionale di Lettanti abbiamo veramente necessità di appoggio sul settore giovanile che, viste un po' le nostre condizioni e quant'altro, ci viene difficile a mantenere, anche se in passato abbiamo avuto qualcosa, però effettivamente è stata un po' una fatica a tenere su squadre di settore dove non ci sono tutte le categorie e quindi diventa un po' un problema. Poi ovviamente il bacino d'utenza all'interno di questo contesto è abbastanza limitato e ci si deve rendere conto di queste cose. Quando e come è nata questa idea? Diciamo che è nata con lo scambio amichevole di pareri fra persone dove abbiamo trovato un'unità di intenti e quindi un po' abbiamo fatto visita loro, un po' ci siamo trovati e alla fine diciamo che è un esperimento che riteniamo proficuo portare avanti. Entrando più nel dettaglio di questa collaborazione, sottolineiamo sempre per la collaborazione, che cos'è che faranno le due società da settembre o da quando si partirà in poi? Perché poi quella è la domanda più difficile. Certamente. Allora loro ovviamente il Real Social continuerà nella loro attività con tutte le squadre di settore salvo l'ultimo anno allievi 2004 che sempre con il nome di Real Social ospiteremo su questi impianti per tutto il campionato.